Il corridore italiano ha conquistato la vittoria ad una media di circa 43 km l'ora. Giuseppe Giucca, l'affarista compromesso nel crollo delle società del cauccio, ha lasciato secondo le prime valutazioni un passivo di un miliardo e mezzo. Giucca ha dichiarato di essere vittima di una manovra di borsa e di non avere nulla da temere dalla giustizia. Ci comunicano da Londra... Giucca ha dichiarato di essere vittima di una manovra di borsa e di non avere nulla da temere. Giucca ha dichiarato di essere vittima di una manovra di borsa e di non avere nulla da temere. Giucca ha dichiarato di essere vittima di una manovra di borsa e di non avere nulla da temere.